Salve a tutti amici di Espazio, sono Rocco Zaccaro e oggi voglio spiegarvi un po' come installare le beta pubbliche di iOS sui vostri dispositivi. Tutto ciò dopo la sigla. Allora, il procedimento è veramente molto semplice. Iniziamo sbloccando il nostro dispositivo e apriamo l'applicazione Safari. Scriviamo nel campo di ricerca l'indirizzo beta.apple.com Questo indirizzo ci porterà ad una pagina del sito della Apple dedicato alle beta pubbliche di iOS e di macOS. A questo punto facciamo un tap su Sign Up per accedere con il nostro Apple ID. Nella nuova pagina quindi inserite le vostre credenziali. Se non avete un Apple ID potete crearlo dalla pagina stessa. Premiamo Invio. Accertiamoci di aver selezionato iOS e poi cerchiamo e facciamo un tap sulla voce Enroll your iOS device. Adesso non ci resta altro che scaricare il profilo che ci consentirà di installare la beta pubblica di iOS. Facendo quindi un tap su Download Profile verremo rimandati alla pagina delle impostazioni in cui andremo ad installare il nuovo profilo. Quindi facciamo un tap su Installa. Facciamo un altro tap su Installa. E ancora un altro tap su Installa. Ci verrà richiesto quindi di riavviare il dispositivo e noi ovviamente lo riavviamo. Attendiamo il riavvio del nostro dispositivo e ovviamente lo sblocchiamo per l'ennesima volta. Adesso non ci resta altro che seguire i tipici passaggi che utilizziamo per installare un qualsiasi aggiornamento over the air. Quindi richiamoci in Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software. E aspettiamo la verifica della disponibilità degli aggiornamenti. Al termine della ricerca non ci resterà altro che installare l'aggiornamento come un qualsiasi altro aggiornamento. Quindi ragazzi questo è tutto ciò che c'è da sapere sull'installazione delle beta pubbliche di iOS. Ovviamente come ci suggerisce anche la Apple consiglio vivamente di effettuare un backup dei vostri dati con iTunes onde evitare perdite di dati a causa di eventuali errori. Se il video vi è stato utile o semplicemente vi è piaciuto vi chiedo di farci sapere lasciando un mi piace o semplicemente un commentino qui sotto. Se non vi siete ancora iscritti al canale cosa aspettate? Fatelo subito! Noi ovviamente ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Ai Spazio. Ciao!